Con 9 persone in vita E sono morto per l'aereo E il primo è andato Non donate solo per fare il provino Rag La donazione Ricordate che va fatta per supportare il canale Non per Per altro Vabbè questo se lo fa Gigi Rax allora Lori è nel team Sì l'abbiamo fatto entrare Vabbè lui meritava raga dai Anche nel video Il 99% diceva che meritava Ah peccato Si sa che ha secco di Di max Ma almeno Gli hanno confermato la kill E sta qua Oh merda GG 6 kill raga Con 25 in vita Vediamo che ci combina Occhio bro Ok dai che hai pure l'agground Ok almeno si è accorto di quello sotto Bello Mi cazzo ti fai cadere tu Bravo Va bene raga Va bene Va bene Trappalo Un'altra Ma che è Ma Occhio frate Ma è mortale questo Ma che è oh Credo che sia messo non male di più Bella place questa raga Mortace Questa è una gran bella place Se la sta cavando davvero bene con questi Ma è mortale sto tizio raga Ma quanti scudini ha mortace Guarda ancora si sta facendo uno scudo grosso Ma è mortale veramente oh No frate No frate Wow Wow Gran bella place questa Gran bella place Chiaramente ora qua c'hai i cagacazzi con l'elicottero Mi sembra normale Qua ziii Guarda se vuoi giocare per far kill E se vai addosso a quelli che sparano È un po' un rischio eh Anche perché c'è la sedia No vabbè non andare scherzavo Wow Dai frate Wow GG Bello sto HS raga Vai frate vai Bello 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 Mi è piaciuto a zii Bello bello Frate ti prego non mi morire Che questa è una partita da canale Se vai avanti così Ma nasci ma nasci Ma che ma che cosa Vado raga stiere Mamma mia stiere Cosa sono C'è modo di rischiare di morire Per il cagacazzi con l'aereo Non ci rendiamo conto Vediamo come se la cava ora raga Io non so quanti materiali abbia Però prima mi ha detto che era un po' secco Ma ne ha ammazzati due Però se se lo sta facendo Forse un po' secco eh Ma quindi alla prossima posso entrare Sì Mandy No in realtà Prima c'è Aia C'è Andre Ma non so se c'è ancora Andre ci sei ancora Vai fatelo Bello Bravo prendigli il maz Dai che te lo fai questo Dai che te lo fai Occhio frate Bello Dagli che sta a dodici Dai che se ne può ancora fare quattro raga Vai che lo stanno pushando Vai Bello Cioè vabbè alla fine In questo caso raga Se le sta facendo con lanciarazzi Molto easy Però comunque È onesto È legit È legit Minchia raga Spero che se la porta a casa Perché è da canale questa Ha fatto Soprattutto prima Una giocata Che veramente Ha tanta roba Allora è circondato È nel panino Bella situazione De mierda Vediamo come se la gestisce Allora in questo momento Lui giustamente Essendo nel panino Come vedete Non sta rischiando Cioè anche ste cose Raga Sono da notare Cioè bisogna anche giocarsela Di strategia Non solo pushare Così a caldo Un sacco Aia Vabbè questa è un po' sfiga No bro Ti prego non perdermela Anche se la chiude Con 15 kill È una gran partita Raga Madonna che paura Che ho Ma runnimi Ok uno è andato Ha tramortito Quindi Se se lo fa Occhio fratello Merda Ben razzetto Bravo Marunne mie Marunne mie Vai trappalo Dai che lo trappi Dai che lo trappi Dai che lo trappi Vai fratello No non l'ha preso Mi sa Credo non l'abbia preso Raga O forse si Non lo so Non si è capito Nella sua visuale Non ho capito Se l'ha preso No frate Peccato cazzo No No Fuck me Grazie.